Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Tronchi e detriti trasportati dalle mareggiate sulla spiaggia di Sassonia Sud Dopo quasi tre mesi i residenti tornano a chiedere che vengano rimossi Rompono il cancello della chiesa San Giuseppe al Porto E poi si scusano con i padri agostiniani Il Fanno batte 5 a 1 il San Nicolò e passa alla fase nazionale dei playoff di Serie D Buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia Apriamo il nostro telegiornale mostrandovi lo stato in cui versa la spiaggia di Sassonia Sud a Fanno Dopo il maltempo del 6 febbraio scorso ancora sulla spiaggia detriti e tronchi Ecco come si presenta nel servizio di Simona Zonghetti Tronchi, rami spezzati, una barca, parti di recinzioni, reti da pesca, pneumatici, teli di plastica e cumuli di immondizia Tutti i detriti che le mareggiate di mesi scorsi hanno depositato in gran quantità La bella stagione si avvicina ma ancora non tutte le spiagge sono pronte ad ospitare cittadini turisti Come ad esempio questa all'altezza di via Fratelli Zuccari a Sassonia di Fano Una discarica a cielo aperto? Sì, questa roba è qui dalla mareggiata del 6 febbraio Che è venuto un dirigente dell'Asiat con l'assessor Paolini Ci ha detto di appoggiarla in fondo, non vicino l'acqua perché se no la portava via Le mareggiate è ancora qui da febbraio Poi ogni giorno aumenta perché passa qualcuno, butta una pentola, passa un altro, butta un sacchetto di immondizia Aspettiamo, non so, a fine d'agosto che la porti in via Ricordiamo che ha aspettato anche le scogliere, mi raccontava che ha dovuto rifare la recinzione per l'ennesima volta Una recinzione provvisoria perché finché non fanno le scogliere non posso fare una recinzione fissa Perché ogni anno la devo rifare di nuovo Quindi ho fatto una roba provvisoria perché se no d'estate arriva la gente Arrivano fino a casa nella mia proprietà e addirittura attraverso Non vogliono uscire dal cancello del portone di casa E addirittura gliel'hanno pure rubata una? Un pezzo di rete me l'hanno rubata, era nuova quella, era un pezzetto nuova La nostra redazione ha contattato in giornata AZSPA per avere ulteriori informazioni La presidente Lucia Capodagli ci ha detto che non appena terminerà l'emergenza al Lido di Fano Causata dal maltempo dei giorni scorsi Si procederà per rimuovere il materiale depositato sul tratto di spiaggia di Sassonia Sud Partendo dall'aria antistante all'ex pista dei go-kart Nel pomeriggio inoltre è stato effettuato un ulteriore sopralluogo nel punto da noi indicato Con l'obiettivo di trovare una via d'accesso Visto che i terreni adiacenti sono di proprietà privata I tecnici e la stessa presidente si sono resi disponibili a collaborare con i cittadini E chiedono di poter essere contattati al numero 0721 83 11 89 Per risolvere al più presto il problema Non ci sono aggiornamenti per quanto riguarda il ritrovamento del cadavere Sabato scorso nel tratto di spiaggia compreso tra lo stabilimento balneare numero 5 e Fosso 6 ore Il comandante della Capitaneria di Porto Eliana Di Donato ci ha riferito che l'autopsia sul corpo Verrà eseguita nei prossimi giorni Dall'esame del DNA sarà possibile così risalire alla sua identità E sono rimasti chiusi con l'auto e hanno rotto il cancello della chiesa di San Giuseppe al Porto Poi evidentemente presi dal rimorso si sono pentiti e hanno chiesto scusa ai padri agostiniani Vediamo Avevano lasciato l'auto nel parcheggio della chiesa San Giuseppe al Porto Ma quando sono tornati a riprendere il mezzo la brutta sorpresa I padri agostiniani infatti ogni sera chiudono il cancello intorno alle 22.30 Un'azione comunicata anche in un cartello affisso all'ingresso Nonostante questo un gruppo di ragazzi nella notte tra sabato e domenica scorsi Per poter uscire hanno spaccato il braccio del cancello Ma sono stati colti sul fatto dalle pattuglie della polizia stradale Non è la prima volta qui purtroppo è la chiesa sul Porto, sul Lido, la parte inne di Fano E qui noi abbiamo avuto da sempre problemi con il sabato notte Soprattutto tra il sabato e la domenica Sabato notte all'arrivo degli agenti c'è stato un fuggi-fuggi tra i giovani Ma un equadoregno è stato riconosciuto come uno dei responsabili della vicenda Ed è stato denunciato a piedi libero Solo in un secondo momento si è scoperto che in realtà il ragazzo si trovava lì per puro caso E vedendo delle persone in difficoltà ha deciso di aiutarle inconsapevole del guaio a cui sarebbe andato incontro Questo episodio, ha sottolineato padre Gianfranco, non è la prima volta che accade Nel corso degli anni infatti sono stati diversi Per non parlare dei pali, della segnaletica che vengono spesso divelti durante il fine settimana Sono troppi, denuncia gli atti di vandalismo nel quartiere del Lido Io sto venendo dal commissariato perché il gruppo che ha divelto il braccio del cancello Era per riprendersi la macchina che aveva lasciato qui E quindi erano in 12, 12, 13 che si sono accorsi Quindi sono ammucchiati e chiaramente la forza di 12 persone ha divelto il braccio Ha piegato il perno e quindi ha creato un danno Ora stiamo cercando appunto di mettersi un po' anche d'accordo con le persone Perché mi sembra almeno i proprietari di una macchina Persone oneste che in fondo sono venute già a chiedere scusa Perché sapevano benissimo che il cancello si chiudeva alle 10 e mezzo Noi sabato notte si rimane qui fino alle 11 e mezzo, 11 e tre quarti Poi bisogna chiudere perché se rimanesse il cancello aperto Il sabato notte alle 2, alle 3, alle 4 della mattina Divegono le piante come hanno fatto spessissimo Rovesciano i vasi, fanno le loro cose, i loro bisogni sul piazzale E la domenica mattina noi abbiamo le celebrazioni A quanto ammonta il danno? L'ultimo braccio rotto fu la notte di Pasqua Nella veglia pasquale del 2014 E noi abbiamo speso tra messa in opera e acquisto e riacquisto del braccio Un 2400 Il problema della mancanza di parcheggi a Lido di Fano persiste ormai da diverso tempo Mesi fa inoltre è stata approvata la variante urbanistica Che riguarda l'area dell'ex Hotel Vittoria Un progetto che permetterà non solo di realizzare un hotel a 4 stelle Nel parcheggio privato gratuito all'altezza del Lido 1 Ma anche molte opere compensative Affinché si possa realizzare una zona missa a prevalente destinazione ricettiva Ma per sapere se il parcheggio potrà rimanere a disposizione degli automobilisti Anche per la prossima stagione estiva Lo abbiamo chiesto all'assessore ai lavori pubblici Marco Paolini Io ritengo di sì, in quanto ancora l'approvazione definitiva del piano ex Hotel Vittoria Non è stata fatta, verrà prossimamente in Consiglio Comunale E poi ci saranno da approvare i progetti delle opere di urbanizzazione E quindi non è che ci sono i tempi in questo momento Per immaginare che quest'estate si faccia, si realizzi nulla in quell'area Tuttavia, ecco, nell'ambito di quella trasformazione urbana Vi è la riallocazione dei parcheggi dall'area che oggi viene utilizzata Al parcheggio ex-chief che verrà potenziato E dotato di un sottopasso ferroviario Oltre che di una passarella nuova sul torrente Arzilla Che ricollegherà e rifunzionalizzerà molto meglio il parcheggio ex-chief Dando così una possibilità migliore di raggiungimento e fruizione Del lungomare Simonetti e delle spiagge E apriamo la pagina della politica Lancio di uova e pomodori per Matteo Salvini Leader della Lega Nord Contestato in piazza del popolo a Pesaro Da una quarantina di militanti dei centri sociali Che hanno coperto di grida e insulti il suo comizio Durato circa otto minuti Gridando slogan contro i fascisti e i razzisti La polizia in assetto antisommossa non è dovuta intervenire E Salvini che ha parlato ad una ventina di metri di distanza dai contestatori Sul cassone di un pulmino è ripartito subito dopo Il segretario della Lega è tornato nelle Marche per la terza volta nel giro di un mese Per sostenere il candidato governatore di Fratelli d'Italia Lega Nord Francesco Acquaroli E per la terza volta ha incassato contestazioni e insulti Da parte di giovani militanti della sinistra e antagonisti Malgrado le avverse condizioni meteorologiche La senatrice Paola Taverna e i candidati consiglieri del Movimento 5 Stelle Pier Giorgio Fabri, Francesca Frenquellucci, Alessandro Cascini e Rossella Accoto Sono stati accolti da un pubblico molto numeroso e particolarmente attivo Nei locali del ristorante Il Pesce Azzurro a Fano I portavoce a tutti i livelli del Movimento hanno precisato Che non sono a caccia di poltrone ma vogliono lavorare per impostare Le corrette politiche atte alla ripresa economica e alla riorganizzazione dei servizi indispensabili Per tornare ad avere una vita sociale che rispetti la degnità di ognuno E che faccia di tutti dei cittadini e non dei sudditi E ora occupiamoci dell'aggressione all'agente di custodia Aggredito da un detenuto nel carcere di Fossombrone Il vice segretario regionale della Polizia Penitenziaria Torna a chiedere l'assegnazione del personale Oggi sottodimensionato Sentiamo le sue dichiarazioni Altro atto di violenza nel carcere di Fossombrone Dopo recente fatto di cronaca accaduto nei primi giorni di maggio In cui un detenuto ha coltellato alla gola un compagno Ad essere aggredito questa volta è stato un agente di Polizia Penitenziaria L'ennesimo episodio che si è verificato nel braccio di alta sicurezza Fa aumentare la preoccupazione nell'istituto di pena Per questo il vice segretario regionale del sindacato di Polizia Penitenziaria Giuseppe Pasquino torna a denunciare la carenza di organico L'episodio in questione è sicuramente grave Perché ha visto un agente colpito alle spalle Però è una cosa che abbiamo Parlavo un attimo con i miei colleghi Si è cercato di stemperare Perché comunque è un rischio della nostra professione Ed è stato brillantemente risolto sia dal comando che dalla direzione Chiaramente focalizzare sul discorso La mancanza di personale e di innovazione tecnologica Potrebbe essere molto utile praticamente 25 anni fa, ricorda Pasquino, il carcere era dotato di 200 unità Che sono state poi dimezzate negli anni successivi Il vice segretario inoltre puntualizza il fatto Che la casa di reclusione non ha avuto le necessarie innovazioni tecnologiche Che avrebbero potuto compensare la carenza di organico Certo, perché la struttura penitenziaria for sombronese È da anni una struttura solida e quant'altro Però non è stata mai modernata tecnologicamente E oggi queste tecnologie sono di indubbia utilità Per l'esplicamento dei servizi di sicurezza quotidiani Noi abbiamo più volte rappresentato questa necessità I nostri superiori uffici E alla luce di questi fatti Continueremo maggiormente a incalzare le nostre richieste E torniamo a parlare dell'incendio Che ha devastato in parte la discoteca La Folì a Marotta di Mondolfo Noi oggi abbiamo interpellato e intervistato Il comandante provinciale dei vigili del fuoco Dino Poggiali Per sapere se sono emersi ulteriori sviluppi Vediamo Ha distrutto gran parte della discoteca estiva L'incendio di probabile origine dolosa Che venerdì scorso è divampato in due momenti diversi In due zone opposte della discoteca La Folì a Marotta di Mondolfo Proseguono quindi le indagini da parte dei carabinieri E dei vigili del fuoco Per cercare ulteriori indizi Utili a individuare gli eventuali responsabili del rogo Comandante avete fatto ulteriori sopralluoghi in questi giorni? In questi giorni era previsto un sopralluogo per venerdì Ma purtroppo le avverse condizioni meteorologiche Ci hanno impedito di fare ulteriori controlli Nei prossimi giorni sicuramente dovremo tornare Per repertare altro materiale nelle zone degli inneschi Però per il momento non ci sono ulteriori particolari novità Rispetto a quanto è emerso in precedenza Insieme ai carabinieri di Marotta comandati da Antonio Barrasso Nei prossimi giorni verranno visionate le immagini dell'incendio Che abbiamo trasmesso in diretta sul canale 117 del Digitale Terrestre Parliamo di occupazione Perché ci sono nuove opportunità di lavoro A bordo delle navi Costa Crociere Giovedì 28 maggio alle ore 17 Al centro per l'impiego, l'orientamento e la formazione di Pesaro In via Luca della Robbia 4 Verranno presentati al pubblico i due nuovi concorsi per operatore turistico Promossi dalla provincia di Pesaro Urbino e dalla regione Marche Saranno completamente gratuiti Grazie al contributo del Fondo Sociale Europeo E a un'occupazione garantita per almeno il 60% dei partecipanti La scadenza per le iscrizioni è fissata per il 4 giugno prossimo Le domande vanno presentate online sul sito www.provincialavoro.it Previa registrazione nell'area candidati E nel nostro sito www.oclanotizia.it Potrete trovare anche i relativi numeri di telefono Apriamo la pagina dello sport Oggi è lunedì come sempre Perché i pulcini 2004 della Junior Sant'Orso Allenati da mister Dennis Rossi e da Luca Piccini Si sono classificati al secondo posto della fase finale del torneo 6 Bravo A Che si è svolto lo scorso fine settimana a Fermo Complimenti anche ai giovanissimi 2000 Junior Sant'Orso E al loro mister Matteo Giovannini Per aver vinto il titolo provinciale di categoria Occupiamoci dopo i juniores anche dei più grandi E quindi dell'Alma Juventus Fano Che ha vinto domenica scorsa per 5 a 1 contro il San Nicolò Qualificandosi così in questo modo per la seconda fase dei playoff Sentiamo Sergio Catalani Agli ordini di Fabio Pasciutta di Agrigento Scendono in campo le squadre di Alma Juventus Fano In maglia Granata E San Nicolò in maglia bianco-azzurra Di nuovo un pomeriggio Dallo storio Mancini di Fano Gucci, Gucci, Gucci Gucci va giù, Gucci C'è il calcio di rigore per il fare l'ammunizione Il fisco delle diretture di gara Parte Andrea Sivilla Il tiro e il gol Andrea Sivilla Intanto c'è Chiacchiarelli che è libero Attenzione Ginestra Ci mette una pezza e salva il risultato Parte Gucci La palla è buona per Gucci Gucci, 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 Gucci Gucci Intanto Borrelli verso Gucci Salute la palla è buona Gucci, Gucci Gucci, vediamo Gucci Il tiro di Gucci Goal Nicolò Lunardini intanto ancora verso Gucci Gucci in aria Verso Marconi Il tiro di Marconi E' il gol Strepitoso Strepitoso Alessandro Marconi Marconi, Favo Tutto molto bello Poi è Sartori Sartori Fa tutto da solo Sartori 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 Il tiro E' il gol Matteo Sartori C'è ancora Di Sante C'è il tocco con un braccio Il rigore Il fischio del direttore di gara Parte Chiacchiarelli Il tiro Il gol Tiro impeccabile Sartori intanto Ci prova ancora Sartori E' un'altra perla Matteo Sartori E' doppietta Ebbene a fine campionato ci mancheranno le grida di Sergio Catalani Intanto vi ricordo che a fine telegiornale andrà in onda uno speciale Sempre sulla Ma Juventus Fano Uno speciale dolce perché è stata creata una torta appositamente per loro E poi trasmetteremo come ogni lunedì naturalmente la partita che avete visto negli highlights per intero Vi ricordiamo anche che domenica prossima il Fano giocherà in casa alle ore 16 contro lo Scandici Bene, grazie per essere stati in nostra compagnia E si chiude qui l'informazione di Occhio alla Notizia che tornerà domani sera alle 20 e 30 Buona serata a tutti voi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti